Servirà a una decina di aziende con 400 dipendenti la nuova rete di distribuzione della connessione internet in fibra ottica presentato ufficialmente il 21 giugno nel municipio di Riva presso Chieri. Alla rete è abbinato un innovativo impianto montato su di un traliccio alto 35 metri e alimentato con celle solari a idrogeno che consente di diffondere la banda larga alle utenze non servite dalla fibra. L'infrastruttura che agevola l'accesso ad internet per le aziende dell'area industriale di Riva è stata finanziata dalla città metropolitana di Torino con un contributo di 38 mila euro nell'ambito del progetto per il superamento del digital divide. A realizzare l'infrastruttura il consorzio Top X. Consigliere Cambursano, un investimento di 38 mila euro da parte di città metropolitana e di Top X ma l'importante è dare un segnale e di questi segnali ce ne sono già diversi sul territorio di città metropolitana. Sì, l'impegno di città metropolitana per la riduzione del digital divide va proprio in questa direzione di fare interventi che siano degli interventi che connettono i territori che sono magari aree interne, marginali che però non di meno hanno bisogno dell'infrastruttura digitale. E quindi il ruolo dell'ente di area vasta, incaricato dalla legge dello sviluppo economico e sociale dei territori di riferimento, secondo me è proprio questo, quello di intervenire con dei finanziamenti ad hoc per permettere le stesse condizioni a tutti i cittadini a prescindere dal territorio in cui vivono. Anche perché le aree a fallimento economico da parte dell'operatore che fornisce connessione possono diventare aree a fallimento economico globale? Ma sì, infatti, poi tra l'altro c'è il concetto di fallimento di mercato, se uno va ad analizzarlo comprende realtà anche medio-grandi, quindi figuriamoci le aree rurali e montane di cui è piena la nostra città metropolitana. Quindi per far sì che le aziende continuino a investire sui nostri territori e per far sì che le persone continuino a decidere di vivere, quindi evitando lo spopolamento delle aree interne, queste infrastrutture sono strategiche. Sindaco, un'iniziativa che consente un salto di qualità alle aziende del vostro territorio. Innanzitutto, quante aziende può coinvolgere questo servizio? Questo servizio può coinvolgere lì nella zona industriale una decina di aziende, 10-12 aziende. aziende che sicuramente non sono l'Embraco che ha appena chiuso, ma che comunque assicurano oggi 400 posti di lavoro, quindi insomma bisogna anche partire da quello che si trova. Quest'operazione sicuramente noi siamo contenti di aver trovato anche questa sinergia con città metropolitana, questa condivisione con Topis per arrivare a portare un servizio che oggi è indispensabile in chiunque produca, chi più chi meno hanno tutti bisogno di queste tecnologie e quindi il fatto di portarle. Qualcuno diceva che non è compito del Comune portare la fibra, certo che non è compito del Comune, però facilitare l'operazione lo è, perché le aziende, le zone industriali sono quelle che assicurano i posti di lavoro alla nostra popolazione, alla nostra comunità. Quindi questo riteniamo che sia un nostro problema e un risultato quello di raggiungerlo.